L'indovina di Stefano Benni L'indovina Amalia, famosa cartomante, accolse il cliente nel suo studio. Sul tavolo c'era una statuetta egizia, il gatto nero Pippo, tre pacchetti di sigarette e un mazzo di tarocchi. Tagli il mazzo, disse Amalia con voce baritonale. Il cliente eseguì. La cartomante Amalia estrasse tre carte e le scoprì lentamente davanti a sé. La prima carta dice che nel marzo di quest'anno ci saranno spaventosi attentati a Londra, Parigi e Roma e un ordigno atomico verrà lanciato su Washington. L'uomo dei gluti. La seconda carta dice che la reazione degli Stati Uniti provocherà la terza guerra mondiale, con due miliardi di morti, nel quadro di una catastrofe climatica che sommergerà due terzi delle terre emerse. L'uomo si grattò la testa. La terza carta dice che la donna a cui lei sta pensando la ama ancora e tornerà da lei. Grazie, grazie, disse l'uomo quasi con le lacrime agli occhi. Pagò, uscì e quando fu in strada, la gente, gli alberi, il cielo, tutto gli sembrava più bello e luminoso. Continua la nostra rubrica musicale, non più a tema storico, però, ma a tema storie. Non più la storia, ma le storie. Le storie che grandi personaggi e grandi autori ci hanno raccontato. Vi regalo, e questo è un vero regalo, apriamo lo scrigno delle chicche, una canzone di un autore che molti di voi non conosceranno. Lui è Lucio Dalla, uno dei più grandi cantanti della musica italiana di sempre. Era il 1971 e questa è La casa in riva al mare. Buon ascolto. Una donna si affacciava Maria Una donna si affacciava Una donna si affacciava Parole dolci che si immaginò Questa sera Questa sera manca Manca poco Maria La mano di Maria E gli anni sono passati tutti gli anni insieme E di suoi occhi E di suoi occhi ormai non vedo più La donna si affacciava E di suoi occhi ormai non vedo più E di suoi occhi ormai non vedono più Y di suoi occhi ormai non vedo più Il suo occhi ormai non vedo più E poi fusi un sole mero E poi fusi un sole mero E poi fusi un sole mero Vengo a te, Maris Vengo a te, Maris Vengo a te, Maris